Si è tenuto presso l'hotel Charlie di Pesaro l'appuntamento annuale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Pesaro Orbino, in occasione della 14esima edizione dell'Osservatorio Immobiliare, un'agenda che guida il settore dell'immobiliare provinciale tracciando prezzi di acquisto e di vendita degli immobili del territorio, permettendo così di studiare il mercato e allo stesso tempo di avere una visione chiara del suo andamento nel corso dell'anno. La 14esima edizione della presentazione di questo osservatorio, è 14 anni che monitoriamo e mettiamo un punto ai prezzi di mercato di quelli che sono i prezzi degli immobili di tutta la provincia di Pesaro Orbino. Ormai da 14 anni, come dicevo prima, facciamo questo importante libro che per noi è ormai un momento di incontro, è un faro che, tra virgolette, dà la luce, illumina il settore e dà per dare prezzi di mercato più attendibili e più precisi per quello che riguarda il comparto immobiliare. I prezzi sono leggermente in aumento soprattutto per il discorso delle nuove costruzioni perché con i costi dei materiali per fare classi energetiche elevate, quindi immobili con prestazioni energetiche elevate, ovviamente i prezzi si sono comunque dovuti alzare. Abbiamo un leggero aumento anche per i prezzi dei appartamenti di piccola dimensione, quindi bilocali e monolocali, perché comunque con il discorso di inflazione la gente si è rifugiata ovviamente quando la finanza ha delle problematiche, si rifugia nel mattone, in questo caso tra gli affitti estivi, turistici e tutto quanto, visto anche un po' il discorso di peso al capitale della cultura italiana, hanno avuto un buon rialzo e un buon aumento dei prezzi, comunque con un'ottima vendita degli appartamenti di mono e bilocali. Sono dati che noi ormai chirurgici siamo, io dico sempre abbiamo il polso del mercato della situazione, per cui cerchiamo, sono proprio prezzi del compravenduto, per cui diamo ovviamente delle indicazioni divise per nuova costruzione, ristrutturazione, abitabili e da ristrutturare, ovviamente questi portano ad avere dei parametri sulla vendita dell'immobile, diciamo, sui prezzi dell'immobile. Prezzi d'acquisto e di vendita determinati nel 2024 anche dall'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Interessante quindi la lettura degli anni che verranno, per comprendere se la scia di prezzo subirà variazioni che terranno conto di un anno particolare come questo. Secondo me non saliranno, rimarranno all'incirca gli stessi. Sicuramente è una scia che ci portiamo un bel trend positivo perché comunque il turismo è sicuramente aumentato, quindi Pesaro è anche una città turistica ormai, per cui questo trend sarà sicuramente, ce lo ritroveremo nel 2025 e secondo me anche un po' nel 2026. Quindi i prezzi secondo me però rimarranno costanti per un discorso di accessi al mutuo e tutto quanto, quindi una serie di considerazioni da fare un po' più allargate, ma a mio avviso i prezzi rimarranno all'incirca stabili con compravendite che rimarranno all'incirca sempre comunque con lo stesso numero di un migliaio sulla zona di Pesaro provincia.